Già l'anno scorso come squadra mobile solo in zona Sayona abbiamo operato sette arresti arrivando al sequestro di diversi grammi di sostanza. L'arresto dell'altro giorno è quello col quale inauguriamo ufficialmente il 2018. Si tratta di un pluripregiudicato italiano, pugliese, da anni residente qui nella città di Arezzo, che entra e esce dal carcere già da diversi anni, sempre per fatti relativi allo spaccio di sostanza sollevacente. E' stato sorpreso con 500 grammi di hashish addosso nella quartiere di Sayone, per questo è finito in ammanette un 54enne italiano pluripregiudicato. La squadra mobile nell'ambito di un controllo generale che fa normalmente sulla città di Arezzo lo ha intercettato e siamo arrivati a sequestrare appunto 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi. A casa dell'arrestato abbiamo trovato altri 500 grammi di marijuana insieme con un bilancino di precisione. Oltre all'attività di contrasto stiamo effettuando, e questo non è la conferma dell'attività mirata di investigazione, che proprio vogliamo andare a cercare di incidere sui fenomeni criminali e quindi a estirparlo. Il 54enne si trova attualmente nella casa circondariale Aretina in attesa di processo. Le indagini che hanno portato all'arresto sono state svolte alla vecchia maniera. Permettetemi di definire la classica, quindi un po' romantica, appostamenti, pedinamenti, osservazioni mirate, analisi investigative che un'altro si chiamavano a tavolino. Grazie. Grazie.